ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video io sono fox e oggi parliamo di lampade led per automotive e allora ragazzi in commercio ormai da anni sono arrivate le lampade led per automotive questo è un modello di qualche annetto fa questo invece un modello diciamo molto più recente e passando diciamo con gli anni la tecnologia led nell'automotive ha migliorato tantissimo l'efficienza la qualità del prodotto la miniaturizzazione dei componenti la potenza luminosa di uscita e comunque in generale la durata del della lampada stessa questa è una lampada led eccola qui corpo totalmente in alluminio come vedi ragazzi il pro e il contro delle lampade led le sappiamo ormai tutti altissima potenza luminosa un cr i cioè indice di resa cromatica molto migliore delle normali lampade alogene e riscaldano molto meno eccetera eccetera e c'è durano ovviamente più o di quelle alogene certo non in tutti i casi infatti ragazzi nelle passate tecnologie come questo la durata non era il loro forte perché perché ragazzi come funziona una lampada led per automotive e allora è un contenitore un supporto tutto in alluminio due power led cobb led nello specifico come in questo caso uno di qui e di qui questa lampada può funzionare sia come monolampada cioè h7 che come h4 h7 funzionano tutte e due led in contemporanea h4 ne funziona uno come an abbagliante e poi anche l'altro per abbagliante il tutto pilotato tramite questo connettore e questo modello alle centraline esterne eccola qui centralina esterna 12 volt di ingresso con connettore pin di uscita questi vanno connessi così va stretto il fermo e come vedi è un tutt'uno ragazzi colore della luce e allora i colori che a me piacciono per i led in auto sono né tanto bianco freddo ma neanche tanto bianco caldo è un bianco che va intorno ai 5.000 forse anche 5.500 kelvin che diciamo è un colore bianco bianco puro ora ti accendo questo avvio il mio alimentatore da banco e te le faccio vedere in funzione negativo positivo vado con i 12 volt eccole qui come vedi hanno ventolina che già partita nella parte posteriore e il colore della luce ragazzi è bello bianco puro il problema di queste lampade le spengo perché non vedo più il problema di queste lampade di passata tecnologia quale ragazzi che riscaldavano tantissimo perché perché questi cobo led sono cobo led si di una tecnologia diciamo avanzata però niente da paragonare con queste ragazzi queste lampade hanno super giù la stessa potenza questo in funzione a un assorbimento di 24 watt e 8 letto dal mio alimentatore ora ti dico quanto è l'assorbimento di una di queste ok allora andiamo a collegare la lampada diamo polo positivo alimentazione sul polo positivo ragazzi questa è un h4 configurazione h4 perciò vuol dire che due accenderanno con un polo gli altri due con l'altro polo questo modello specifico non permette il funzionamento di tutti e diciamo 12 led in contemporanea perciò ne accenderà sempre ed esclusivamente sei alla volta e allora andiamo con canale 1 an abbagliante eccolo qui e abbiamo un assorbimento di qui di 20 watt 20 watt quelli superiori e 20 watt quelli inferiori perciò questo questa lampada ha come vedi con la stessa linearità di questa anzi molto più carina anche esteticamente ha forse il doppio della potenza di questa qui anche come chip luminosi vedi questa una piastra molto grande questi invece sono dei chip smd davvero davvero piccoli però ragazzi potentissimi il calore si riscalda questa lampada qui cosa di diverso da questa qui ragazzi come vedi è molto più piccola è molto più semplice come struttura lineare e cambia ovviamente l'attacco lampada però alla fine questo volendo si può svitare e andarne a mettere un altro ecco qui come vedi può funzionare sia così se il tuo attacco lampada è questo o mettendo questo e da un lato sei dall'altro nello specifico come sono suddivise queste sono suddivise con tre e tre funzionano in contemporanea e poi tre e tre funzionano sull'altro canale perciò così facendo puoi avere abbaglianti e hanno abbaglianti tutti su una lampada poi ragazzi cosa manca manca la centralina come vedi questi hanno questa centralina enorme che è pesante e che in un'auto è complicato anche andarla a piazzare installare questi invece ragazzi hanno tutto dentro questo piccolissimo contenitore in alluminio sotto ti lascio in descrizione alcuni link a queste lampade di ultima generazione come vedi cambiano i led questi montano led smd ad altissima efficienza come abbiamo detto sono 6 e 6 12 elettronica integrata e non esterna cavo di connessione integrato alla lampada ventola di raffreddamento come su questa anche su questa alluminio hanno tutto il corpo in alluminio riscaldano molto meno di quelle e hanno una potenza molto molto più alta di quelle di passata tecnologia tu stai cercando delle buone lampade per la tua auto io ti consiglio di boicottare ormai questi modelli anche perché se non ne puoi fare a meno i tuoi budget sono bassi possono anche andare bene attenzione perché funzionano però ragazzi valutando la tecnologia valutando che il tutto sta migliorando con il passare degli anni e abbiamo ottimi prodotti come queste io ti consiglio di puntare senza ombra di dubbio su di queste queste sono il top in questo momento in commercio sotto in descrizione ripeto ti lascio dei link a lampade h1 h7 h4 eccetera 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 ciao ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like un commento se anche voi avete lampade led sulla vostra vettura ditemi come vi trovate io li monto ormai da un anno passato e mi trovo benissimo ciao ragazzi al prossimo video ragazzi al prossimo video